Infatti l'ho fatto, ma io mi ricordo tanto di noi, nei tuasso, ho fatto sempre nei tuasso, ho fatto un'avvio in Natale, ho fatto tanto per il Calamme, ho fatto il Ceph Pro, il Sarmor Agricultural and Fish with Productivity and Marketing Project. E poi ho fatto l'inno, ma ho fatto anche l'inno, ma attinae, ma ra ma ki ti, nawa tato fuwa fatuanga ma whai ngā whaiwa. Awale, tato o tunu, innai ma whai manga fatie, e la auwhai fatuanga, la auwhai rawhamarnu, ma la auwhai whaiwa. Ia a latou ngāloue ng whai. Awale, tautuaino a latou, Ia inga mō mōa, ā wapia fói lenga tunu. Ia anu mawhai fóe an au in nato, sono i loro della mia macomma, e per darvi una fatta spessorica un ragazzino perché ci sono stati che lo affiano un'amorato e abbiamo anche un vero che i ragazzi poi ci sono stati e ci sono stati e se spesso diciamo che è stato fatto a un'argo con i fat, e ci sono fatti a un'argo, e ci sono stati con i fat. Ci sono stati con i malum, e adesso faccio il amore dei termini, e poi faccio il amore dei stami, e poi faccio il amore dei termini, Sono stati per lo morning in Italia. Mi c'è stato fatto anche quando sono stati molto diversi. Deve aver fatto la tua vita che aveva un lavoro di America, io sono stati seri 12 milioni per gli americani, e le tutto ciò che ha avuto 12 milioni per gli americani. così sti all'evolvente fino all'inizio, fino a vi andiamo di 15 milioni, mentre i nostri abimenti rienti tanta. Ora, mentre i nostri geni abbiamo i fatti di noi, ma noi stiamo molto spavano di noi. Infatti i nostri bambini di noi sono, perché i nostri bambini è un uomo e un bel forno. Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.